Siamo peccori di tutte queste cose, della ricchezza, dell'acidia, della rigidità, della montanità, del clericalismo, di modalità, di ideologie, di forma di vite. Manca la libertà e non si può seguire Gesù senza libertà. Ma dalle volte la libertà va oltre e uno scivola. Sì, è vero, è vero. Possiamo scivolare andando in libertà. Ma peggio è scivolare prima di andare, con queste cose che impediscono di incominciare ad andare. Che il Signore ci illumini per vedere dentro di noi se c'è la libertà di passare la porta che è Gesù e di andare oltre Gesù per diventare grece, per diventare pecore del suo grece.